Buongiorno Andrea Pilotti, come abbiamo ricordato già tre volte in precedenza, lei è responsabile della ricerca dell'osservatorio della vita politica regionale all'Università di Lausanna. Ci ha aiutato a capire il quadro generale, ma anche sostanziale, delle prossime elezioni cantonali in Ticino. Andiamo alla nostra conclusione. Lei non si limita evidentemente a studiare la situazione dopo che l'evento è accaduto, ma lo seguirà durante la sua evoluzione. Come sta seguendo le elezioni cantonali ticinesi per le municipali? Quali sono le sue sensazioni? Allora, devo dire che ho un po' l'impressione di assistere a una campagna, forse anche in qualche modo giocoforza, un po' spenta. Vero è che ho avuto anche l'esperienza vivendo nel canton Vaux e potendo anche fare un po' il confronto. Il Ticino rimane ancora, per fortuna, un cantono in cui di politica si dibatte, si discute, anche se rispetto al passato ho questa sensazione che in Ticino anche l'effetto della pandemia, l'effetto anche di una campagna comunque molto limitata nei suoi mezzi, si faccia sentire. Quindi pochi santini, nel senso che la pandemia impedisce anche quel contatto di tipo personale che era caratteristica poi di una maggiore partecipazione, come lei aveva ricordato all'inizio dei nostri incontri. Ma c'è una particolarità che l'ha colpita in questo dibattito? Trovo che vi sia una difficoltà nel profilarsi chiaramente da parte anche dei candidati al municipio. Questa è un po' una sensazione che, ripeto, è un po' dovuta anche alla situazione della pandemia. Vero è che forse mi sarei aspettato, visto che questa situazione la viviamo da un anno e che le elezioni sono state anche ritardate di un anno, mi sarei aspettato magari forse un po' più di capacità di innovazione da parte di certi candidati nel condurre la loro campagna. Tutto risulta ancora un po' ingessato. Ecco, questo è dovuto a qualche elemento particolare, nel senso che per esempio i comuni, sì, possono magari progettare, ma poi la messa in opera è qualcosa di diverso? Sicuramente, anche dovuto al fatto che ho l'impressione che ci sia anche una politica, questo non è negativo secondo me, è una politica forse fatta a meno di slogan, la questione è quindi di dare più contenuto. E forse, ecco, al livello di contenuto trovo che manchino un po', manchino un po' in questa campagna elettorale. Ecco, per concludere, adesso lei non vorrà rispondere, ma io glielo devo chiedere. Una previsione almeno dei trend che possono emergere da queste elezioni comunali, anche se di solito le elezioni comunali sono un po' più nel risultato tradizionali rispetto a quelle cantonali. È vero che sì, effettivamente magari danno attito a meno sorprese, è difficile effettivamente, non sono un indovino, anche il mio lavoro mi porta più ad analizzare anche spesso le elezioni dopo che si sono tenute. non prevedo dei grandi stravolgimenti a livello di forze di partito, questo no. Poi sarò smentito il 18, quindi vedremo. Ecco, nemmeno nei grandi centri, per esempio Lugano, che è sempre un po' sotto la lente del discorso generale in Ticino. Allora, per Lugano, diciamo, una riflessione è quella legata anche alla candidatura di Lombardi. Sono curioso, ritengo che non sia così scontata, insomma, la sua elezione come forse alcuni possono immaginare. Credo che sarà una vera battaglia, anche interna al PPD. Allora, grazie. La ringraziamo molto per averci accompagnato alla vigilia, praticamente, del voto generale. e avremo occasioni, magari, al termine di questa operazione elettorale, di questo voto, di questa chiamata alle umidi, a esaminarne anche i risultati, per quanto concerne degli aspetti generali e di trend elettorale. Grazie mille. Grazie a voi ancora per l'invito. Grazie a voi.